Nome? Sandro, Mario, Marco, Cognome, Facino, Fallani, Gama Annossi, Età, 27, 31, 42 fatti ora, Professione? Storico dell'arte, Impiegato, Sono un funzionario d'azienda, Che mestiere voleva fare da bambino? Il dottore, Lo storico dell'arte, Il calciatore della Fiorentina, Esame di vita quotidiana, Quanto costa un litro di latte? 1,14 euro 1,20 euro Costa circa poco meno di 1 euro E mezzo chilo di pane? Mezzo chilo di pane dipende, però sull'euro e 50 si riesce a trovare quello casalingo Dipende, però 1 euro al chilo in genere, io prendo quello 1 euro al chilo alla Coppe Un euro Un pregio dei suoi avversari? Quello di vivere la politica con passione come me Leali e un pregio, basta Un pregio e sono più giovani Un difetto dei suoi avversari? Che sono troppo giovani Quello di vivere la politica come passione impiegandoci un sacco di tempo Un difetto dei miei avversari? L'eccessiva spettacolarizzazione di questa campagna elettorale, andava presa con più sobrietà 3 aggettivi per definire se stesso? Appassionato, sincero, trasparente Tenace, coraggioso e sereno Sono una persona passionale, concreta, con una grandissima voglia di lavorare Cosa le piace del suo lavoro politico? L'incontro alle persone è magico Mi piace l'aspetto di mettersi a disposizione della propria comunità con la massima trasparenza e la massima passione Mi piace il contatto con le persone, più di tutto Le primarie sono davvero uno strumento efficace per scegliere i candidati? Secondo me sì, non perdendo mai di vista le secondarie, cioè quelle di vincere le elezioni all'amministrativa di maggio Assolutamente sì, perché fanno partecipare tante persone Sì, penso di sì, Scandicci sta rispondendo molto bene, stiamo facendo grandissimo lavoro in città La prima azione da sindaco? Ristabilire con le persone, quartiere per quartiere, le priorità di investimento per la sicurezza stradale Quella di girare tutte le scuole del nostro territorio per fare un serio programma di manutenzione dei nostri edifici scolastici Vado sulla tomba di una signora di 42 anni che ha perso la vita per salvare il suo bambino Consiglierebbe a suo figlio di fare il sindaco? A mio figlio consiglierei di fare quello che si senta fare davvero la vita, costi quello che costi Perché no? Se ne hanno voglia, sicuramente sì Assolutamente sì, credo che servire gli altri sia una grande passione, un grande elemento di soddisfazione personale Crede in Dio? Sì, sì Non sono ateo Mai fatto uno spinello? No Da ragazzo sì, non troppi, ma io non bevo e non fumo adesso, quindi no La scoperta che ha cambiato la vita negli ultimi 20 anni? Internet Ma, internet Beh, direi il cellulare Un motivo per votarla il 9 marzo? Scegliere di tornare a fare politica in mezzo alle persone Scegliendo chi in questi anni ha rappresentato un'associazione di volontariato e quindi il contatto con le fasce più deboli Perché sommo la giovane età, quindi la passione e l'entusiasmo che provenne dalla giovane età Unendola anche ad un'esperienza politica e amministrativa di questi anni Perché sono una persona semplice e si impegna tantissimo e ama in modo spropositato la mia città Dia un consiglio ai suoi avversari A Fallani? Di vivere con maggior serenità questa campagna elettorale per le primarie Beh, di vivere con serenità, con passione e impegno le primarie A Pacinotti? Sorridi, la vita è bella Beh, quello di stare sereno, di vivere queste primarie con tutta la passione e l'impegno E poi ci rivediamo il 10 di maggio No, ho sbagliato, il 10 di marzo, questo lo devo rifare A Gamannossi? A Marco consiglio di rapportarsi di più con noi altri candidati E di creare più gioco di squadra anche per il futuro Sorridi, la vita è bella Così?